Razza distese sempre, gambe sempre piegate, non salgo. Razza distese e la palla all'interno delle braccia, pollici rivolti in giù. Muovo i piedi se la palla non è precisa. Distendere le braccia, muovere i piedi, Elisa. Mia sei in piedi e tu? Piega le gambe. Elisa, apri i piedi, piega le gambe. Dentro le braccia, la palla. Rimani giù, apri i piedi, Elisa. Vai. Razza distese, dia 5. Alza le spalle. Vai. Ancora, fa vedere le spalle un po' meglio. Alziamo le spalle, si stanno piegando.